Ciao a tutti e bentornati in un nuovo What I Eat In A Day che so che vi piace tantissimo Oggi ho deciso di preparare per colazione questo Maxi Pancakes che è una ricetta molto light però appunto lo faccio gigante in modo tale appunto da farne solo uno che mi basterà per tutta la mattinata la ricetta di questo Pancakes ve la metto giù nell'info box e lo realizzo appunto come i semplici Pancakes in una padella antiaderente faccio fare le bolle prima da una parte e poi lo giro Nel frattempo preparo il mio sciroppo di melograno che è buonissimo e lo preparo con l'estrattore questo è l'estrattore essenzia vi metto tutte le informazioni sempre qui giù nell'info box ed è un ottimo estrattore quindi mi ricavo il mio succo di melograno dopodiché lo vado a mettere all'interno di un pentolino con dello zucchero e vado appunto a far bollire il composto fin quando si addenserà Nel frattempo sul mio Mega Pancakes vado a metterci dello yogurt alla vaniglia questo è della Muller ed è buonissimo vado pazza per questo yogurt metto un po' di melograno e poi infine il mio sciroppo di melograno ovviamente più lo fate raffreddare più sarà denso ed è una colazione sana, light e gustosa anche qui un pranzetto sano sto preparando le zucchine insieme a dei gamberi che faccio praticamente cuocere in due pentole differenti dopodiché quando sia le zucchine che i gamberi saranno pronti vado ad unire i due ingredienti infine metto ovviamente la pentola dell'acqua per versarci la pasta e metto un po' di panna, ma veramente pochissima sto utilizzando la panna di soia ultimamente e devo dire che è veramente molto buona e questo è il mio pranzetto lo spuntino di questo oggi in realtà è uno smoothie quindi un succo preparato appunto con delle verdure con della frutta utilizzando sempre l'estrattore all'interno c'è la mela, il limone, gli spinaci e il sedano questo succo fa benissimo sia all'organismo che alla pelle ve lo straconsiglio, io lo faccio spessissimo e poi è veramente buono per cena invece mi preparo una vellutata di verdure utilizzando delle patate, delle carote, degli spinaci e del sedano quindi faccio bollire il tutto insieme a un po' d'acqua metto anche una cipolla all'interno poi frullo le verdure sulla vellutata vado a metterci un po' d'olio e del pepe sto mangiando ultimamente con il pane quello senza lievito ed è veramente molto buono mi piace l'accostamento della vellutata con questo pane ovviamente potete utilizzare dei cristini o magari dei crackers ecco e questo era tutto spero che il mio what I eat in a day vi sia piaciuto se è così mi raccomando lasciatemi un bel pollice in su lasciatemi qualche commentino e ricordatevi di iscrivervi al canale e a tutti i miei social io vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo prossimamente in un nuovo video ciao ciao